paola caruso stupenda in abito da sera il tubino è davvero mini e la scollatura non lascia nulla all'immaginazione i fan apprezzano paola caruso è influencer showgirl ma anche opinionista ospite fissa nei salotti di barbara d'urso la prima apparizione della donna in tv è stata avanti un altro ricoprendo il ruolo della bonus da lì una vera e propria escalation con partecipazioni a reality ed un corpo super che di certo l'ha aiutata e non poco forme giunoniche che peraltro non esita a metterle in mostra spesso e volentieri tanto da realizzare anche un calendario completamente senza veli nel 2020 sempre e comunque sotto i riflettori anche per la sua vita privata decisamente turbolenta un figlio una relazione finita con moreno merlo in modo burrascoso a suon di denunce con epilogo addirittura in tribunale ma anche la madre biologica conosciuta in tarda età e proprio nel salotto di barbara d'urso paola caruso però è soprattutto apprezzata per il suo corpo con oltre 800.000 follower su instagram sul noto social network posta a ritmo continuo e spesso il soggetto delle immagini è proprio lei in compagni del figlio michelino con il volto che si vede esplicitamente senza alcun tipo di censure recentemente si è mostrata in compagnia del nuovo fidanzato ma anche dei cavalli altra sua passione non mancano però immagini decisamente più gradite dai suoi follower quelle in cui mostra le sue forme perfette e un post con una serie di scatti alle terme è certamente l'occasione migliore per esibire il suo corpo un bichini rosso che trattiene a stento il décolleté ed un fondo schiena per nulla coperto dal mini tessuto del costume niente bichini invece nell'ultima immagine ma un abito da sera decisamente mini che lascia a bocca aperta tutti un mini tubino decisamente molto sopra al ginocchio e scollatissimo con il décolleté in bella mostra first night in ischia ha scritto nella didascalia per island in love attrazione attrazione Grazie a tutti.